Il principe Filippo e la regina si fermarono a Venezia in visita ufficiale nella primavera del 1961 durante il loro viaggio in Italia. Con queste immagini nel suo tweet il sindaco Brugnaro rende omaggio al principe duca di Edimburgo, marito della regina Elisabetta d'Inghilterra, scomparso all'età di 99 anni. Da tempo aveva problemi di salute, nelle ultime settimane era stato ricoverato per complicazioni cardiache. Nell'archivio della locanda Cipriani si trovano alcune foto della coppia reale a Torcello, poco dopo il pranzo all'uscita del locale e davanti alla Basilica. Un secondo viaggio fu nel 1984, un terzo, a distanza di circa 20 anni quando furono ospitati dal presidente Ciampi. Non si esclude però che il principe possa essere tornato, anche dopo la visita a Primiero nel 1996. In quell'occasione accettò l'invito del comitato organizzatore del premio internazionale Luigi Negrelli. Il principe Filippo atterrò all'aeroporto di Treviso, salì a Primiero dove alloggiò all'hotel Iris Park per poi incontrare le autorità. Avrebbe compiuto 100 anni a giugno. Nel Regno Unito sono stati decretati otto giorni di lutto. Ancora poche le informazioni sui funerali.